In realtà con il progetto, origini nebroidee e 45 anni trascorsi in Giappone, una vita passata ad organizzare scambi culturali ed eventi grazie ai quali ha cercato di mettere in relazione la realtà dalla quale proveniva con il posto in cui ha scelto di vivere. E' la storia dell'imprenditore Salvatore Caliò, padre nazitano, madre pugliese e moglie e figli giapponesi, che oggi si racconta nel libro The How, Incontro, che si è rappresentato questo fine settimana a Naso. Dopo 45 anni di vita in Giappone, poter raccontare il perché è nato questo feeling verso questa nazione che oggi naturalmente è molto conosciuta, specialmente in Italia, credo che sia abbastanza importante per chi vorrà da questo momento vedere il Giappone come una possibile meta della sua vita. E di qui la necessità anche di riportare il Giappone in una forma non più esotica ma realistica. Il realismo comporta la storia della mia vita perché ho dedicato a questa terra 45 anni. Ogni giorno è un'esperienza. Non si può dire, mi sono abituato perché ho passato decenni e decenni, no, potrebbe essere all'America, potrebbe essere alla Francia, ma il Giappone ogni giorno è quella che si può dire, una prova. A cui bisogna rispondere. Il libro da una parte non è un diario, dall'altra parte non è una guida turistica. Attraverso la mia esperienza parlo anche naturalmente di quegli aspetti, chiamiamoli, della cultura o delle abitudini del Giappone che possono essere utili a inquadrare questa nazione, più che stato, questa nazione, nell'ambito dell'Asia. La mia relazione con i Nebridi naturalmente parte da quando ero ragazzino, da quando ero bambino praticamente, quando mi portarono per la prima volta sono andato a Milano. Portarono qui a otto mesi e da quel momento, virtualmente ogni anno, ho vissuto la vita dei Nebridi attraverso il naso.